La professoressa Alessandra Graziottina è il volto nuovo della rubrica dedicata alle donne all'universo femminile e che si intitola Salute, i segreti del corpo. Sono molto molto grata per l'opportunità di condividere con voi la mia passione per la salute della donna, per conoscere i segreti del nostro corpo, imparare a rispettarlo di più, ad ascoltarlo e a comprendere quali siano i primi sintomi che sono delle vere richieste d'aiuto che il nostro corpo ci fa. Riconoscerli serve alla donna e al medico per una diagnosi precoce, un trattamento efficace che ci danno molta soddisfazione sempre se integrati con stili di vita sani. Martedì 21 novembre parleremo di anemia di cicli abbondanti, cercheremo di capire cosa li provoca, quali sono le cause disfunzionali e organiche, le implicazioni legate al ferro e come si possano affrontare queste problematiche. Vi aspettiamo!